Salve a tutti e bentornati dal vostro LuigiFri85 oggi è il terzo giorno di vaccino sono un po' a pezzi mi sono riprendendo lentamente sempre continuo ad avere gli stessi effetti collaterali ultimamente nel senso di quelli di ieri cioè bevendo la coca cola mi sento proprio non dico collassare ma così e poi mi affaccio così insomma non mi sento bene poi sono aumentati i problemi di vista degli occhi con la luce quindi fotosensibilità maggiorata in più aumento sempre un po' della fame e ah si gonfiore addominale è aumentato paurosamente con il fior addominale non ho fame in certi momenti non ho per niente fame il mio cervello dice di mangiare ma il mio stomaco proprio non ne vuole sapere mezza altre cose ah si improvvisi sensi di mancamento mentre guidavo oggi che sono andato la mia suocera su con la mia compagna su 841 metri di attitudine rispetto a livello del mare quindi in campagna stavo facendo la strada tranquilla non è che no dico uno corre fa tutto a zig zag no stavo guidando normalmente improvvisamente il braccio da così 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 e io così col volante così ho provato il suo braccio sti e giù giù così è proprio così che mi ha guardato in faccia e mi ha detto ma che hai fermati solo che non riuscivo a connettere non riuscivo a fermare ed ero tutta curva in stade in auto per i primoti quindi ho fatto un attimo fatica a concentrarmi un attimo ho provato dopo una curva uno spazio per accostarmi fuori dalla strada ho dovuto fermarmi mi spento il motore mi sono messo così, tremava la mano destra e poi sono andato a scendere, non stavo in piedi, ho provato, ho fatto pipì, vedere un attimo se a livello di pressione calava, dopo un po' ho ripreso a fiato e ho riproseguito molto più piano di prima, non che andassi veloce perché in tutte curve andavo ai 40 massimo non di più, quindi dopo sono andato un po' più piano, 30-35 km all'aria, ma non troppo perché se no sono in salita, fai più fatica, devo spingere un po', insomma ho fatto quello che potevo, ecco, però questi sintomi non sono un granché positivi, quindi se dovessero peggiorare è probabile che mi dovrò rivolgere a una neurologa o fare un attacca alla testa per vedere un attimo che cosa è peggiorato o qual è il problema, se è poi connesso al vaccino che ha peggiorato i miei sintomi neurologici, che già ho, di mio, poi non lo so, ma vediamo, adesso vediamo cosa salta fuori, io non ne ho la più palida idea, il fatto è che questi sono i sintomi del secondo al terzo giorno, e vanno un po' peggiorando, non vanno migliorando, per nulla, il male al braccio sono sparito, è sparito, il male è qua, il male alle spalle pure, tranne un po' alla destra, ma quello non è il problema, infatti penso che il 16, che devo fare la seconda dose, è probabile che la faccia invece al braccio destro, cioè lo alterno, voglio vedere un po' cosa succede se lo faccio dall'altra parte, è un po' di livido qui è venuto alla fine, non so se si vede, un po' che niente, un po' qua, ma qui, però vabbè, un po', vabbè, non è un problema che ha sbagliato la luce, è così ragazzi, o per chi non mi conosce iscriversi al canale, magari così vedremo anche i nuovi video, per ora sto facendo solo questo video, questo video, che posso chiamare, video diario del post vaccino, per i 15 giorni successivi del vaccino, per verificarne gli effetti collaterali, su di me, in un auto uso come cavia, non che sia una cosa carina, però, utile forse per tutti quanti voi, tenendo a conto a priori di ricordarvi tutti i miei problemi di salute, quindi il cuore, la schiena, i valigenetici, un po' di salute che non va, però, ragazzi, non sono l'unico che ha questi problemi, c'è chi sta anche peggio di me, però vediamo come va, a livello di asma, va meglio, se il respiro va bene, ma sento sempre come qualcuno che comprima le ossa, qua, non intanto, però, ovviamente, come sempre, non riesco più, vabbè, questo dal 2015, ormai, anche a tenere la cintura di sicurezza, qua, non ce la faccio più in nessun modo, ma questo è un problema mio, ma me lo avevano già avvisato i medici che non ci sarei riuscito, perché dopo un infarto polmonare è un problema, non piccolo, e io, infatti, mi sento stringere il torace, anche se sono appoggiata, mi sento soffocare, e non riesco proprio, non ci riesco, mi viene a stormare, mi viene a capogiro, nel senso di compressione, di proprio tipo grossofobico. Comunque, ovviamente, detto ciò, ragazzi, vi auguro una buona notte, vi auguro una buona serata, e ci vediamo domani, a Dio piacendo, ciao!